Il ProVino Siamo qui per questo, speriamo bene Avete avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo? No, niente Nella vita, a parte il sogno di fare l'Avenina, cosa vorreste fare? Per il momento manca un mese dall'esame di maturità Quindi ora si dedichiamo all'esame, poi vedremo Sì, io anch'io, siamo in classe insieme Siete venute apposta in due, una bionda e una mora Sì, abbiamo formato la coppia Sì, proviamo Ok, grazie, bocca all'uomo Grazie Ciao